ben trovati ben trovati alle tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di gorizia una delle tre cose va fatta assolutamente prima della fine del mondo per gli scopritori di eventi domenicali per quelle che persone che si occupano di domenica di cercare eventi belli che possano riempire la giornata noi ne abbiamo tre che in una maniera o nell'altra in un tipo o nell'altro vi possono dare una soddisfazione partiamo con il primo nella nostra scaletta e siamo in quel della di monfalcone con un po di cultura ovvero un po di scienza la domenica mattina come potete vedere dal titolo che c'è sul sito di promotorismo fvg un ciclo di conferenze che comincia questa domenica alla biblioteca comunale di monfalcone via ceriani 10 sala conferenze dalle 10 e 30 alle 12 come vedete dal sito di promotorismo la foto del dottor cicogna è un po a metà ma comunque si può capire di cosa c'è scritto per quel che riguarda il titolo il frio di venezia giulia nel cambiamento climatico andiamo a vedere la scheda di promotorismo eccola qua per quel che riguarda quello qua ore 10 e 30 biblioteca comunale di monfalcone via ceriani qualche descrizione ciclo di conferenze un po di scienza la domenica mattina dalle 10 e 30 alle 12 presso la sala conferenze della biblioteca comunale di monfalcone domenica 4 febbraio il frio di venezia giulia nel cambiamento climatico per esempio domenica 18 febbraio gestione delle imbarcazioni da di porto giunte a fine vita e poi si parla di gas idrati naturali eccetera eccetera quindi tante cose molto interessanti questa è la prima cosa da fare siamo a monfalcone andiamo a vedere la seconda cosa da fare e la seconda cosa da fare noi abbiamo segnalato nel programma anche con un servizio apposito è il carnevale goriziano questa domenica 34esima edizione il carnevale che apre la serie di carnevali cosiddetti isontini in questo caso l'ultimo come al solito sarà quello di monfalcone la dalla dal sito di promo turismo andiamo a vedere cosa dice promo turismo in centro città non mette l'ora ve lo dico io dalle 14 14 a 30 comunque a gorizia e l'inizio del carnevale goriziano qua ci sono anche altre notizie anche quest'anno gorizia sarà rallegrata dal tradizionale carnevale goriziano che vedrà il seguente programma domenica 4 febbraio come dicevo alle ore 14 come potete vedere ci sarà la sfilata di carnevale accompagnata dal gruppo bandistico tita michelasi fiumicello che attraverserà il centro della città partendo dalle 14 per fare poi il solito percorso via roma via 24 maggio per finire ai giardini pubblici di corso verdi e la premiazione ai giardini pubblici di corso verdi segnaliamo sempre per il carnevale goriziano lunedì 12 febbraio il carnevale dei bambini dalle 14 e 30 a con il raduno davanti al teatro verdi e mercoledì 14 febbraio come è stato detto anche nel servizio dalle 16 raduno sempre davanti al municipio e poi via verso san rocco questa è la seconda cosa da fare la terza cosa da fare è a farra di sonzo percorsi di pietra verso il museo archeologico di farra di sonzo sempre dal sito di promo turismo andiamo a vedere cosa dice la scheda farra di sonzo museo della civiltà contadina di borgo colmello strada della grotta 8 farra di sonzo ed è questa questa è questo evento è iniziato il 13 gennaio finirà a fine giugno descrizione la cittadina di farra di sonzo dà il benvenuto nuovamente ai visitatori alla mostra percorsi di pietra verso il museo archeologico di farra di sonzo l'esposizione situata presso il museo della civiltà contadina friulana di borgo colmello e supportata dall'amministrazione comunale di farra offre un affascinante viaggio nel tempo facendo rivivere al visitatore uno scorcio della romanità locale di due millenni addietro andiamo a vedere gli orari orario invernale ore 16 19 il sabato la domenica che è quello che ci interessa ore 10 13 questa è la terza cosa da fare ed è tutto per oggi per quanto riguarda la nostra puntata delle tre cose da fare andiamo a vedere no non c'è altro vi ringraziamo di essere rimasti con noi se passate dalle nostre parti sulla nostra pagina facebook e ci lasciate un like ci permettete di tenere compagnia sempre più persone è tutto dicevamo per oggi noi ci vediamo fra sette giorni stesso posto stessa ora ciao